Mancini si dimette, a Bodhi, deluso e perplesso. Benvenuti nel canale. E siamo la Juventus e vuoi rimanere ben informato sulla Juve, iscriviti al canale e clicca il campanello in modo da non perderti nulla. Mi dispiace e mi sorprende, è una decisione sorprendente fino ad agosto, tutto molto strano. Al telefono con l'Ansa, il ministro dello sport e della gioventù, Andrea Bodhi, dice a sorpresa, so sentito dai media, le dimissioni improvvise di Roberto Mancini come commissario tecnico della Nazionale. Tra le altre cose, aggiunge il ministro, penso, le nomine del personale tecnico blu recentemente annunciato sono state concordate con lui o no? Grazie a tutti!